Mentre gli studenti toscani si preparano alla ripresa delle lezioni in classe il 14 settembre dopo i mesi di chiusura delle scuole per l'emergenza Covid, la regione toscana ha destinato 3 milioni di euro aggiuntivi tra settembre e dicembre per garantire a tutti gli studenti il servizio di trasporto scolastico, la cui domanda crescerà con il ritorno a scuola ma che dovrà anche fare conti con le norme anticontagio e con quelle di distanziamento. Le risorse in più stanziate dalla regione serviranno per questo anche a finanziare servizi di trasporto aggiuntivi da svolgere con autobus o altri mezzi privati di norma non adibiti al trasporto pubblico. Intanto a livello nazionale governo e regione hanno raggiunto l'atteso accordo sulle linee guida per il trasporto pubblico che fissano a un massimo dell'80% la capienza dei mezzi pubblici che potrà arrivare al 100% nel caso di tragitti di durata inferiore a 15 minuti. In ogni caso gli arrivi a scuola è probabile che saranno scaglionati visto che molte scuole anche in Toscana alle prese con l'allestimento degli spazi e delle aule stanno valutando di far arrivare gli studenti a più riprese. Intanto il primo test post lockdown ha iniziato con le riunioni preliminari degli insegnanti e i primi ragazzi tornati per i corsi di recupero.